Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve e bentornato all'interno della Color Page. Torniamo a parlare del Layer Mixer Node andando ad analizzare qualche sua applicazione pratica, ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Ti invito inoltre a salvare e seguire la playlist dedicata alla Color Page di Da Vinci Resolve. Oggi facciamo un esercizio presente nella documentazione ufficiale Blackmagic sull'utilizzo della Layer Mixer Node. Abbiamo già visto più volte le differenze tra un Layer Node, un Parallel Node e un Serial Node. Se hai ancora dei dubbi ti invito a guardare i tutorial precedenti all'interno della playlist dedicata alla Color. Oggi vediamo un'applicazione invece su come utilizzare il Layer Node. In pratica una struttura a livelli sovrapposti di nodi presenti all'interno della Node Editor. Allora prendiamo questa clip e il problema più grosso è dovuto al colore del mare che c'è qua sotto. Non è blu ma è verde e io lo voglio far virare completamente al blu senza possibilmente andare a interferire con il colore dell'aereo. Quindi facciamo un primo nodo, facciamo tasto destro, Add Node, mettiamo un corrector, lo colleghiamo all'input e all'uscita. Vado a sistemare un po' quello che è il contrasto e la gamma tonale dell'immagine. Quindi faccio Node Label, lo chiamo Balance e qui ad esempio possiamo andare a enfatizzare un po' la zona delle ombre perché vedete qui siamo sempre nella zona bassa, quindi magari allargo un po' il contrasto delle ombre. Posso andare ad esempio nella nuova paletta presente nella 17 che è l'HDR, vado nell'esposizione delle ombre e scendo. Poi magari li alzo un po' le light, scendo un altro po' con le ombre. Vediamo un po' ho dato un po' di contrasto e ho abbassato un po' l'esposizione generale dell'immagine e poi vado sulle wheel vado a spegnere un po' la SAT. La porto ad esempio al 40. Ecco questa immagine è già un po' più bilanciata, un po' più neutra. Adesso voglio lavorare sul canale del blu, cioè voglio tirare su il blu della mia immagine. Quindi vado a aggiungere un nuovo nodo, NAD Serial, in questo caso, e lo andiamo a rinominare blu. Ok. E qui cosa facciamo? Allora qui possiamo lavorare in varie maniere. Una maniera è andare a utilizzare le curve, cioè per tirare su il blu vado a sganciare il legame tra luminanza e crominanza nella sezione Edit e accendo solamente il canale del blu. Adesso siccome stiamo lavorando sulle aree basse è su queste che devo intervenire, quindi vado ad alzare il blu sulla zona bassa delle mie immagini. Vedete come viene fuori il blu. Magari possiamo anche portarlo un po' più su. Ok. Io sto lavorando su tutta l'immagine. Vado un po' a ritoccare la saturazione, magari la alzo un po' e poi vado a modificare leggermente la tonalità, quindi la U, per cercare di beccare il blu giusto, cioè il colore del blu che è più simile a quello che ho in testa. Se io lo provo ad abbassare vedete che mi vira in magenta, qua mi vira decisamente sui verdi. Magari lo faccio sì un po' più ciano, ma non troppo, diciamo che l'ho portato a 55 lassate e 55,4 la tonalità. Accendo e spengo il mio livello e questo è quello che ho fatto. Attenzione, io qui ho modificato tutta la mia immagine. Adesso vorrei andare a recuperare il colore del giallo del mio aereo, quindi per fare una cosa di questo genere aggiungo un Layer Node in modo tale che agisco sull'aereo e non vado a toccare il mare sottostante, perché se utilizzassi un Parallel Node andrebbe in Blending e quindi andrei a modificare anche quello che c'è sotto. Quindi cosa faccio? Vado sul blu, Add Node, Add Layer. Quindi mi crea, vedete, un nuovo livello che sta sopra al blu, perché ti ricordo che l'ingresso che sta in basso nel Layer Mixer Node domina, quindi sta sopra all'altro ingresso. Quindi la correzione che viene fatta qui dominerà sulla correzione fatta sul blu e quindi siccome questa è tutta opaca mi va a cancellare tutta la modifica che ho fatto su questo nodo. Adesso questo lo rinomino, lo chiamo ad esempio Yellow. Quindi andremo a fare una modifica sul giallo. E come facciamo? Allora andiamo innanzitutto a utilizzare una secondaria. Andiamo sul Qualifier e non andiamo in modalità HSL, ma andiamo in modalità 3D. La modalità 3D viene utilizzata principalmente per andare a lavorare in Chroma Key all'interno della Color Page. Praticamente mi serve per definire dei range di tonalità, quindi è in grado di percepire le variazioni di luminosità e di tonalità su una stessa base. In questo caso riesce a ritagliare appunto le zone del green. Comincio a disegnare una mia prima zona e disegno un'altra parte ancora. Vedete che sto prendendo un sacco di aree per andare ad escludere. Andiamo a vedere la mia selezione. Andiamo a pulire un po' queste aree. Quindi magari posso andare su Matte Fine S. Andiamo in Shrink e andiamo a cambiare ad esempio il white clip. Ok e poi andiamo a dare un po' di blur. Ok per sfumare un po' la parte dell'aereo. Adesso cosa faccio? Vado semplicemente a invertire la mia selezione. Quindi vado a cliccare su Invert in modo tale da beccare solamente il mio aereo. Andiamo a fare un po' di The Noise. Ok per andare a ripulire meglio la zona. Andiamo a uscire dal modalità Highlight. Andiamo a togliere la spunta su Show Path. Allora se non voglio andare a intervenire troppo anche su questa parte qua la posso escludere tranquillamente andando a utilizzare una Power Window. Quindi vado qui prendo la mia Power Window la metto qua e la vado ad invertire. Parto dal di qui. Facciamo un tracking. Così vado a identificare bene questo movimento. Ok. Adesso devo andare semplicemente ad invertire la mia selezione sulla Power Window. Perfetto. E adesso vedete che ho sistemato un po' tutto. Adesso posso andare a migliorare quella che è la resa del mio aereo. Ad esempio posso ritornare sulle curve. Vado a lavorare solamente sulla luminance e vado a dargli un pochino di contrasto per esaltare i dettagli un po' dell'aereo e magari gli abbasso un po' la saturazione perché la vedo un po' troppo forte. Ok. E questa è la mia clip sistemata con un layer mixer. Quindi se accendo e spengo il grading questo è l'effetto che abbiamo ottenuto andando a virare l'immagine. Bene. Nel prossimo tutorial dedicato alla color faremo un passo avanti all'interno di questo esercizio in modo tale da aggiungere un terzo ingresso alla layer mixer node. Bene se hai delle domande ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno di impara da vinci resolve. Ti ricordo che domani essendo il lunedì sera ci sarà come al solito la live a partire dalle ore 21 sia sul canale youtube sia sulla pagina facebook di impara da vinci resolve.